Io ho notato Gesù Cristo, benvenuti fratelli e sorelle, oggi continuiamo la lettura di questi messaggi, di questa mistica della Spagna, ormai passata miglior vita, che si chiama Luz Amparo Cuevas, questi sono messaggi del 1980 fino al 1992, abbiamo già portato una prima parte dove stavamo parlando di alcuni eventi che accadranno durante l'inizio e la fine dell'Apocalisse di Giovanni, nella quale oggi già ci troviamo, e quindi continuiamo la lettura che abbiamo iniziato ieri con le parole di Gesù, guarda figlia mia oggi Satana celebra la sua festa nelle profondità dell'inferno, lo vedrai, guarda le caverne come sono piene di dannati, di peccatori, di giusti, come sono immersi nel fuoco, sono spiriti maligni, figlia mia, pensa che l'inferno è pieno di peccatori e che è per l'eternità, c'è chi pensa che che come può Dio essendo misericordioso mandare loro questo castigo, sì figlia mia, il mio Padre Eterno è misericordioso ma è giusto e dà ciascuno ciò che si merita, guarda quanti spiriti maligni sono in mezzo a voi, come le anime dei peccatori soffrono a torture, figlia mia, per i loro peccati. La Beata Vergine, Maria, non faccio distinzione di razze, la politica non serve ad essere salvati, figlia mia, ma in condannarsi, il Signore, Dio al mondo intero, se non cambiano e continuano ad abusare della mia misericordia, il mondo sarà coinvolto in una grande guerra, diverse nazioni saranno distrutte, ci saranno morti ovunque, nuvole di fuoco cadranno e bruceranno la terra, tutto questo sarà la cosa più orribile mai conosciuta dall'umanità, Dio a tutti di pregare, di confessare le loro colpe, di pentirsi, che Dio sta per punire tutta l'umanità, darà un castigo come non si è mai visto prima, di chiedere perdono a Dio, che nel mondo ci saranno grandi disgrazie, in varie nazioni ci saranno grandi terremoti. E qui sta parlando ovviamente del capitolo di Matteo 24, dove ci parla che tutte queste cose devono accadere, e ovviamente ci parla di questa grande guerra, cioè quella che oggi stiamo vivendo, e che Gesù poi ci fa sapere attraverso anche vari mistici come Luzia e Maria, che la guerra che l'uomo ha iniziato contro se stesso con le armi nucleari verrà fermata da nostro Signore Gesù Cristo con l'inizio dei segreti di Međugorje. Molti sacerdoti non sono degni nemmeno di una preghiera, sono quelli che offendono continuamente mio figlio. Sì, figlia mia, alcuni sacerdoti ministri di mio figlio con la loro cattiva vita, con i loro errori, con la loro irreverenza, figlia mia, con la loro cattiva disperazione, disposizione nel celebrare, i santi misteri, con il loro amore per il denaro, per gli onori, per i piaceri, mancano della dovuta purezza, figlia mia. I peccatori delle persone consacrate gridano al cielo e attirano la vendetta. Dio punirà in modo inaudito. Ahimè, figlia mia, guai agli abitanti della terra, ai ministri della chiesa. Dio sta per lanciare il suo castigo e nessuno potrà sfuggire a tanti mari insieme. Sì, figlia mia, alcuni sacerdoti offendono molto mio figlio. Molti di loro non sono degni di celebrare i sacri misteri dell'eucolestia a causa della loro mancanza di fede e delle loro mani macchiate di impurità. Un grande castigo verrà su di essi perché hanno una responsabilità ancora maggiore degli altri perché stanno condannando molte anime. Sì, figlia mia, alcuni capi e guide del popolo di Dio hanno trascurato la preghiera e la penitenza e il diavolo ha oscurato i loro intelletti. I libri cattivi abbonderanno sulla terra. Gli spiriti delle tenebre diffonderanno ovunque il lassismo universale in tutto ciò che il servizio di Dio richiede, figlia mia. Il vicario di mio figlio avrà molto da soffrire perché per un certo tempo la chiesa sarà oggetto di grandi persecuzioni, sarà il tempo delle tenebre, la chiesa avrà una crisi terribile. Sì, figlia mia, il potere civile ed ecclesiastico sarà abolito. Ogni individuo sarà lasciato a se stesso e a imporsi sui suoi simili. Ogni giustizia sarà calpestata e presto vedremo ovunque solo omicidi, odio e discordia, senza amore nell'umanità e nelle famiglie. Prego ogni giorno questa invocazione per i sacerdoti, mio Gesù per il tuo cuore amorosissimo, ti prego di infiammare con lo zelo del tuo amore e della tua gloria tutti i sacerdoti del mondo, tutti i missionari, tutte le persone incaricate di praticare la tua parola divina affinché infiammati di santo zelo conquistano le anime e le conducono all'assilo del tuo cuore dove ti glorificheranno senza sosta. In questo messaggio abbiamo letto come la Vergine Maria ci parla continuamente del castigo. Ecco, dobbiamo essere informati attraverso l'Apocalisse di Giovanni che è impossibile pensare come tanti cristiani dicono se i messaggi che provengono dal cielo sono catastrofici e allora sono falsi. A questi cristiani allora devo dire che si debbono leggere il Vecchio Testamento dove Dio dice io ho creato la terra, io la distruggerò, io ho creato l'uomo e io lo distruggerò. Dobbiamo ricordare l'Apocalisse di Giovanni dove si parla dell'Anticristo, delle guerre, nel capitolo di Matteo di 24 dove si parla della seconda venuta di Gesù, ma dove si parla anche delle guerre, di pandemia, di malattie, di terremoti. Ecco, tutto questo non possiamo racchiuderlo in una sfera catastrofica perché la sfera catastrofica è l'imitazione dell'uomo al diavolo con la disobbedienza verso la Santissima Trinità, con il peccato, con l'amore per il peccato. Ecco, la Vergine Maria ci parla di un grande castigo, prima di tutto per i sacerdoti che hanno una missione e quelli e i sacerdoti mondani vanno direttamente all'inferno e quindi noi dobbiamo come popolo eletto, come profeti, come persone che cercano di mettere in pratica l'imitazione di nostro Signore Gesù Cristo, abbiamo questa responsabilità anche di precare per loro, di offrire la nostra vita per loro, per noi stessi, per le persone a fianco a noi perché siamo ormai in un momento dove ci sono tante ingiustizie, tante catastrofi naturali, abbiamo le guerre, abbiamo le pandemie, quindi siamo nel bel mezzo dell'Apocalisse di Giovanni e quindi dobbiamo precare. Il Signore, molte anime, vengono salvate dal Rosario, continuate a recitarlo con devozione, offriterlo per la conversione della Russia perché la Russia è il flaggello dell'umanità, fate molta penitenza, offritela per la Russia. Non mescolate la politica alle mie dottrine, non permettetelo che nessuno mescoli la politica alle dottrine di Cristo, dite loro che Cristo non vuole la politica, il mondo è sull'orlo del precipizio, la massoneria è entrata nella Chiesa, la società è vicina ai più terribili castighi, ci saranno molti morti, ci saranno malattie, grandi guerre, pregate perché la preghiera può tutto, pregate molto per la salvezza per le anime e per il mondo intero. E qui stiamo parlando dei messaggi del 1980 fino al 1992, ci vengono anticipati perfettamente i momenti che stiamo vivendo oggi, infatti Gesù ci parla di pregare per la Russia ogni giorno, abbiamo visto quello che sta facendo la Russia ormai da tre anni, ci parla di malattie, di guerre e quindi già in questi messaggi ci vengono anticipati tutte le cose che stiamo vivendo già dal 2019. Ecco quindi l'importanza di pregare, perché ci troviamo in questa grande tribolazione, come mai c'è stata e mai ci sarà, e ancora siamo nel mezzo di questa grande tribolazione, siamo nel mezzo dell'apocalisse di Giovanni e quindi siamo chiamati alla preghiera, alla riparazione. La Vergine Maria, figlia mia, ogni giorno gli uomini peggiorano, i ministri di Dio e vescovi hanno trascurato la preghiera e la penitenza, il diavolo si è possessato di loro, sono diventati quelle stelle vaganti che il vecchio serpente trascinerà con la sua coda per distruggerli. Dio permetterà a Satana di seminare divisione tra i governanti, le società e le famiglie, ci saranno molte pene fisiche e morali, Dio li abbandonerà tutti e manderà molti castighi a tutti loro. Il mondo è in grande pericolo, dite ai miei figli di pregare di più, di iniziare una nuova fase della loro vita, di fissare un orario per il lavoro e questo darà loro il tempo per pregare. Pregate il Santo Rosario ogni giorno, meditate un po' su ogni mistero, è necessario che i indici misteri del rosario siano recitati perché in ogni rosario si salvano molte anime. Il Signore, il mondo va sempre peggio, non so cosa manca ad essi perché si salvino, si commettono crimini, peccati, impurità, sacrileggi, il mondo è invaso dal peccato, renditi conto che non c'è altro che perversione, non c'è amore per il prossimo, non ascoltano gli avvertimenti, li avverto continuamente ma si chiudono le orecchie, il castigo è molto vicino, rendetevi conto che Dio Padre sta per inviare due castighi molto grandi, uno sotto forma di guerra, rivoluzioni, pericoli, rivoluzionari e l'altro inviato dal cielo. Verrà sulla terra un'oscurità interna che durerà tre giorni e tre notti. Nulla sarà visibile, l'aria diventerà pestilenziale, nociva e danneggerà anche se non esclusivamente i nemici della religione durante i tre giorni di buio. La luce artificiale sarà impossibile solo per le candele benedette, bruceranno durante tutti questi tre giorni di buio. I fedeli dovranno rimanere nelle loro case pregando il Santo Rosario e chiedendo a Dio misericordia. Tutti i nemici della Chiesa visibili e sconosciuti periranno su tutta la terra durante questa oscurità universale, a eccezione di pochi che si convertiranno. San Pietro e San Paolo interverranno per eleggere un nuovo Papa. Guardate, la terra sarà inghiottita dalle fiamme, numerosi edifici sulla terra crolleranno e il cielo sembrerà in agonia. Milioni di uomini saranno uccisi dal ferro, alcuni in guerra, altri in battaglia, altri ancora speriranno di morte inaspettata. Questo accadrà quando la Chiesa sembrerà aver perso i mezzi umani per far fronte alle persecuzioni. Invoca anche la conversione della Russia. La Russia si convertirebbe se i vescovi ascoltassero i desideri del loro Padre Celeste e intraprendessero una vera riforma del clero perché la mia Chiesa non c'è altro che politica. La politica distrugge la mia religione cattolica perché in molti conventi stanno distruggendo la fede cattolica e non se ne curano, ma se non se ne curano la Russia sarà di nuovo il castigo con cui Dio li punirà severamente. Non badano a nulla, hanno l'amore per il denaro, vivono come ricchi e avidi. Eccoci, fermiamo qui. Vi perdono per gli errori grammaticali. Certe parole spesso faccio difficoltà a leggerle, a digerirle. E le mie labbra, come una punizione, si rifiutano di leggere correttamente determinati termini e quindi finisco per mangiarmeli. La Russia è il centro di tutto, come abbiamo visto, e dobbiamo pregare per la Russia. Dobbiamo pregare per questa Chiesa perché ormai abbiamo visto come la politica sta nel cuore di questa Chiesa insieme alla massoneria. Quindi questa Chiesa, questo regime ecclesiale dovrà essere purificato, dovrà decadere, dovrà essere distrutto per far risplendere la nuova Chiesa con l'impegno di questi due inviati, come abbiamo letto nel messaggio, con San Paolo, San Pietro e San Paolo interverranno per far eleggere un nuovo Papa. Ecco, questi sono personaggi immortali, sono i nostri fratelli, sono i nostri apostoli che scenderanno con i loro corpi resuscitati per eleggere il nuovo Papa. Abbiamo visto anche nelle apparizioni del discepolo che si chiama Petrus Romanus II e verrà la fine dei tempi, quindi dopo questo castigo che verrà dal cielo con l'asteroide Eros verrà eletto questo nuovo Papa per riformare la Chiesa con il Grande Monarca, con l'Angelo della Pace, con Elia, con Enoch. Quindi Dio ovviamente manderà questi castighi che noi chiamiamo i dieci segreti di Medjugorje che inizieranno con l'avvertimento universale e che lo stesso avvertimento universale verrà mandato dal nostro Signore Gesù Cristo per fermare la terza guerra mondiale e poi verranno questi castighi per purificare il mondo, perché il mondo va purificato, la Chiesa va purificata, deve rinascere affinché vengano questi mille anni di pace dove vivremo insieme anche alla seconda venuta di Gesù, questo regno di pace, di amore, di santità dove finalmente gli uomini saranno di Dio e Dio sarà glorificato negli uomini e saremo tutti fratelli e sorelle sulla Terra ovviamente saremo un decimo di quello che saremo oggi però ricominceremo da capo avremo la tecnologia degli angeli, viaggeremo nell'universo e la Terra sarà un Eden e tutto verrà ricostruito dagli angeli in pochi giorni ecco ci sono tantissime sorprese che ci aspettano però tutte queste cose che abbiamo detto dovranno accadere non sarebbero accadute se il terzo segreto di Fatima fosse stato rivelato nel 1960 e si fossero prese tutte le dovute precauzioni per consacrare la Russia il cuore emocolato di Maria tutto questo non è stato fatto e quindi oggi dobbiamo pagare le conseguenze della Chiesa vi aspetto nei prossimi video e poi ritorneremo di nuovo su questi messaggi per approfondirli nuovamente Siano dato Gesù Cristo nel cuore emocolato di Maria Siano dato Gesù Cristo il cielo attraverso profeti e mistici ci avvisa dell'urgenza di aver informato stampa i libri delle rivelazioni mariane per ricordarci quando non avremo internet e la tecnologia a causa della guerra dell'anticristo degli eventi e profizie che si compiranno oltre alle preghiere sacramentali che ci occorrono adesso prima che siano impossibili da trovare in descrizione troverete il link per accedere ai miei libri a Grazie a tutti.